Cartello 14, la domanda che ponevo al qui presente Enrico Letta che ora arriverà e avremo un'intervista anche con lui. Cartello 14, oltre a condanna del 2013 Berlusconi ha ricevuto 11 assoluzioni, 10 archiviazioni, 8 prescrizioni. Guardiamolo, una condanna definitiva a 4 anni frode fiscale, decaduto da senatore ma riabilitato. 4 processi in corso, escort 3 filoni in Rubiterra, assolto in primo grado Rubiter Siena, indagata a Firenze per le stragi nel 1992-1993. Come dicevamo, 11 assoluzioni, 10 archiviazioni, 8 prescrizioni, 2 amnistie. Di certo di Berlusconi non si può dire che è uno sprovveduto, però se si candida cosa vuole? Vuole diventare effettivamente Presidente della Repubblica o che cosa? Ma quest'idea che Berlusconi si candida per finta è un'altra leggenda metropolitana. Berlusconi se si candida, si candida per davvero, anche perché di solito investe importanti risorse quando fa il media shopping in giro per il Parlamento. Non credo che stia facendolo per tirare la volata a qualcun altro. Chi lo dice non lo conosce. Berlusconi vuole coronare la sua carriera con la massima carica dello Stato. Non è che sta lavorando per qualcun altro, sta lavorando per se stesso. Non è detto che ci riesca, ovviamente, nemmeno lui, ma a quello punta. Quindi tutti quelli che dicono no, ma vedrete che adesso poi si ritira, non si ritira per niente. Sono gli stessi che dicevano che avrebbe ceduto la leadership di Forza Italia ad Alfano. Dopodiché se l'è mangiato in insalata. Lui non concepisce l'esistenza di qualcuno meglio di lui e più bravo di lui. Finché sarà vivo combatterà per sé. Dopodiché mi fanno ridere anche quelli che ieri si sono indignati o stupiti perché ha cercato di ricattare Draghi. Fa ricatti da quando ancora non faceva politica ufficialmente perché gliela faceva a pagamento. Ma il ricatto sarebbe se Draghi...